Siamo a Tagliolo, a Cabensi, da Giorgio, da Federico, da Daniela. Sono cinque anni, sesto anno, che ci siamo conosciuti con l'idea proprio di portare avanti un progetto Adottiamo Naviglia. Siamo venuti una sera con Marco e con Danilo Radeva che conosceva queste famiglie. Ci hanno accolto in un modo stupendo, come ogni occasione quando veniamo sia a vendemmiare tre volte all'anno facciamo la vendemmia a settembre, raccogliamo l'uva, la spremiamo, la mettiamo nella botte poi a novembre, dopo San Martino, facciamo il passaggio nelle Danigiane e poi l'imbottigliamento. Oggi siamo qui a ritirarlo, a ritirare le nostre bottiglie che poi serviranno per bere insieme agli amici che ci vengono a trovare al centro. È un bel progetto, qui c'è sempre un'accoglienza familiare, c'è la possibilità di mangiare in questo loro agriturismo. La cosa bella credo sia quella che dei ragazzi del centro, dei familiari e degli operatori passano insieme questa giornata, una breve giornata per poi ritornare al centro ma nella massima serenità e dimenticando un po' le cose che diventano a volte fastidiose nella quotidianità. Niente, credo che continueremo. Proprio adesso ci siamo messi d'accordo con Federico che anche al cinema all'aperto, in assenza di gravità, verrà, come ha fatto l'anno scorso, a fare una degustazione dei suoi vini che è stata molto apprezzata e quindi risalderemo questa nostra amicizia. Qu� 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 qu�... Qu� qu� qu�... Qu� qu� qu�... Qu� 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 qu�... Questa è? Questa è che si è andata? Ciao. Ciao, ciao. Non possiamo sennò che impupo coca... Eh? Spasta gli anni che... Ho assoluta quasi. Si... Vuoi fare ancora tante cose, perché... No! Eh, gente! Eh, eh... Le fibre diventano l'uola. qui si mangia, posso approfittare? Come Stefano rosato, bianco, trasparente, rosato e bianco. Hai fame? Vino, buono, vino? Questa è Giarro? Sandro! Mi dimmi com'è? Tu no, non è. Com'è? Si può bene o no? Si. 25 più 2. 24 più 2. Sì No, 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 no. Se puoi fare le statistiche, ti sbagli in enghia, il punto da poco. Voi d'entro, vai, mi mi. aspetta no figurati